Cosa fa un giornalista del team di Euronews Roma di domenica mattina? Insieme a 20.000 persone correrò la Maratona di Roma. Tra le più difficili in Europa, ma la più partecipata in Italia. Con 110 nazionalità. Edizione del 2024 da record in tutti i sensi. Oltre al numero di partecipanti, quello degli stranieri e un nuovo percorso, la 29esima edizione di Acea Run Rome the Marathon è stata record anche per il risultato. A tagliare il traguardo per primo, l'atleta keniano Hasber Rutto in 2 ore 6 minuti e 24 secondi. E alla fine è solo una grande festa. Maria Michela D'Alessandro, Euronews Roma.